Da domani e per tutta la prossima settimana come amministrazione inizieremo una campagna di ascolto con le varie categorie, con le forze economiche, sociali, produttive, sindacali della città e del territorio. Domani mattina la prima sarà con i commercianti, a seguire ci saranno incontri sempre in media conferenza con le imprese edili, con gli artigiani, con gli ordini, con i sindacati, con l'industria, insomma con tutti i soggetti che potranno manifestare le loro esigenze in questa fase contingente, molto complicata, molto difficile. Mi rendo conto delle avversità e delle situazioni davvero complicate che stanno vivendo, ma anche per cercare di interpretare un po' le modalità in cui verrà affrontata la cosiddetta fase 2. Avevo immiato una lettera al direttore provinciale di Poste Italiane chiedendo la riapertura degli uffici postali chiusi a seguito del coronavirus, in particolar modo quelle delle frazioni. Arischia, Bagno, Camarda, Roio, Onna e Monticchio saranno riaperti secondo modalità orari e giorni che verranno comunicati in queste ore da poste italiane e noi ve lo faremo sapere. Insomma ringrazio l'istituzione, l'azienda per aver raccolto l'appello e per la sensibilità mostrata.